Musica Benvenuti dal TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla richiesta avanzata all'amministrazione comunale di Gela dalla segreteria cittadina di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. È stata chiesta l'acquisizione di tre importanti strutture realizzate in città dall'ex provincia di Caltanissetta. Si tratta del Palalivatino, del Cartodromo e del Parco di Montelungo. Vediamo. Il Comune di Gela deve acquisire tre importanti strutture realizzate in città dall'ex provincia di Caltanissetta. Si tratta del Palalivatino, del Cartodromo e del Parco di Montelungo. La richiesta è stata avanzata al Sindaco Domenico Mersinese e al Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Cia, dalla segretario degli Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Gaeta Nominardi. Le strutture sono abbandonate a se stesse dunque. Quale migliore occasione per il Governo cittadino appropriarsene e renderle fruibili? Noi abbiamo ritenuto opportuno inviare una lettera al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e anche ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, gruppi politici, per chiedere al Sindaco di attivare tutte quelle procedure relative all'acquisizione del Cartodromo, Palazzetto dello Sport e il Parco di Montelungo. Riteniamo che sia importantissimo per il nostro territorio, che ormai versa in condizioni pietose, economicamente parlando, di attivare questa procedura, perché queste tre strutture, queste potrebbero essere un rilancio anche per l'economia, che purtroppo l'economia nostra è disastrata. Quindi facciamo appello alla sensibilità del Sindaco e speriamo che si faccia sentire e che si attivi subito, perché potrebbe essere un'occasione da non perdere. È indispensabile creare strutture per valorizzare il territorio, continua Minardi, o in questo caso rendere utilizzabili quelle che ci sono. Il Cartodromo, il Palalivatino e il Parco di Montelungo rappresenterebbero poli di attrazione per numerosi cittadini e non solo. Ci permettiamo anche di stimolare l'amministrazione comunale, il Sindaco e i consiglieri comunali tutti ad attivarsi in favore del territorio, perché non ci possiamo continuare a perdere con tutti questi cambi di sensi di marcia. Vediamo di cambiarlo veramente il senso di marcia a gela, cercando di attivarsi per fare qualcosa per il nostro territorio, qualcosa di attivo per il nostro territorio. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, dice la sua anche in merito alla vicenda raffineria. Noi non ci abbiamo mai creduto come partito politico che in questa riconversione o quella riconversione della raffineria poteva essere la panacea di tutti i mali per l'economia di Gela. Infatti siamo ancora qua ad attendere le assunzioni, siamo qua ad attendere che l'ENI tramite questa operazione rilanci il territorio. Io sono qua e siamo solidali con coloro i quali hanno perso il posto, con quelli dell'indotto, perché così facendo Gela, l'abbiamo detto in varie occasioni, è destinata allo spopolamento. Esercitazione anti-incendio e anti-inquinamento degli uomini della Capitaneria presso il porto isola di Gela che ha coinvolto una nave e le navi del servizio tecnico nautici del porto. È stato simulato, lo vediamo nelle foto, un incendio sviluppatosi presso la zona di caricazione del lato sinistro della nave ed il ferimento a bordo di due marittimi. L'occasione si è rivelata favorevole per verificare non soltanto l'efficacia dei sistemi e dell'organizzazione anti-incendio di bordo, ma anche per testare l'efficienza dell'intera organizzazione portuale e dei suoi servizi. È stato pertanto effettuata un'azione di contenimento da parte del personale di bordo con il supporto via mare di pilota, rimorchiatori ormeggiatori, barcaioli e dei mezzi di sfuggita e di primo intervento sotto il coordinamento via mare della Guardia Costiera. In banchina sono invece intervenute le guardie e i fuochi della società Archimede, i vigili del fuoco aziendali ed il personale sanitario della raffineria, quest'ultimo accorso con un'ambulanza. Il tutto si è concluso con lo spegnimento dell'incendio e il trasbordo del ferito sulla motovedetta SAR 817 che si è successivamente diretta presso il porto rifugio per effettuare lo sbarco del personale sanitario e del ferito in ordine da fornire ulteriore e necessaria assistenza. Successivamente si è simulato uno sversamento di un metro cubo di idrocarburi sempre presso il lato sinistro della nave. I mezzi adibiti al disinquinamento hanno provveduto a circuire l'aria interessata dalla macchia oleosa impiegando dei panni galleggianti e utilizzando anche uno skimmer per decontaminare la zona assorbendo la sostanza inquinante e ponendo fine all'emergenza. Cerimonia di insegnamento nell'aulamagna Saetta Livatino del Palazzo di Giustizia del nuovo presidente del Tribunale di Caltanissetta Daniele Marraffa proveniente da Palermo che prende così il posto di Claudio Dall'Acqua andato in pensione nei mesi scorsi. A dare il benvenuto durante la cerimonia al presidente e a leggere la formula di rito di insegnamento Maria Carmela Giannazzo capo dell'ufficio GIP che ha posto la firma nei documenti ufficiali assieme al diretto interessato e alia Sava procuratore capo facente funzione. Presenti per l'occasione i vertici del Palazzo di Giustizia tra cui il nuovo procuratore di Caltanissetta Medeo Bertone che dovrebbe insediarsi ufficialmente nei prossimi giorni e numerose autorità civili e militari. Un ritorno a Caltanissetta per Daniele Marraffa dove in passato ha ricoperto l'incarico di presidente della sezione civile del Tribunale dal 2006 al 2010 di facente funzione prima dell'insediamento di Dall'Acqua. Il ritorno a Caltanissetta con un grandissimo piacere accompagnato dall'affettuosità non solo dei colleghi ma anche degli avvocati di tante persone che ho conosciuto cinque anni fa a Caltanissetta e quindi è una grossissima soddisfazione per me tornare a Caltanissetta e presiedere un Tribunale così importante, così prestigioso non solo in Sicilia ma in tutta l'Italia. Il presidente Dall'Acqua è stato il mio maestro, i nostri percorsi professionali si sono incrociati diverse volte nella nostra anche mia lunga carriera trentennale quindi vengo ben tranquillo sapendo che il Tribunale è stato gestito in maniera eccezionale al presidente Dall'Acqua e sicuramente continuerò in questo solpo anche se le recentissime riforme legislative mi impongono nuovi oneri ai quali farò fronte. A volte ritornano con queste parole il presidente della Corte d'Appello Salvatore Cardinale ha voluto dare il benvenuto al neopresidente tessendo parole di lode anche per il suo predecessore per il lavoro portato avanti negli ultimi otto anni. Indipendenza, imparzialità, una grande capacità professionale, una profonda cultura giuridica sono le doti che contraddistinguono il presidente Marraffa aggiunto cardinale. Parole di lode per le doti professionali e personali del neopresidente anche da parte di Claudio Dall'Acqua che ha i nostri microfoni ha fatto gli auguri al suo successore. L'augurio è di proseguire nel lavoro svolto fin qui anche sotto la mia presidenza. Con la collaborazione che io ho ottenuto e sicuramente avrà il presidente Marraffa per le sue qualità di eccellente magistrato e di signore nel tratto e nel rapporto interpersonale. L'ufficio va se c'è unità e se c'è collaborazione. Sicuramente non mancherà il presidente Marraffa. Torniamo a Gela e vi riferiamo dell'installazione oggi delle nuove docce sul lungomare Federico II di Svevia. Dalla rotonda est all'altezza di piazza Trento vari punti doccia sono stati installati oggi e attivati dalla Gelas Multiservizi sulla litorale giulese che costeggia il lungomare Federico II di Svevia. L'amministrazione comunale ha così voluto garantire anche questo servizio ai bagnanti che hanno iniziato ad affollare le spiagge. La stagione estiva entra nel vivo. Docce che sono state fatte in collaborazione con la Gelas, utilizzando materiale di recupero e andando a utilizzare sostanzialmente delle infrastrutture che erano state abbandonate da anni. Con un intervento minimo siamo riusciti finalmente a dare questo servizio che credo sia importante per il litorale di Gela. Quindi questi nuovi punti doccia sono rappresentati da due doccine e due lavapiedi per ogni punto che è stato collocato. Partiamo praticamente tutto il lungomare, dislocati in diversi punti. sono disponibili in modo free, in modo gratuito e credo che sia una cosa gradita per i cittadini e per chi ci viene a trovare. Un servizio che veniva chiesto da anni ma che molte volte non veniva dato. Io voglio sottolineare che è stato realizzato con materiali di fatto di recupero a basso costo, sono resistenti alla salsedine, quindi con un po' di civiltà sicuramente questo servizio lo può rimanere attivo per diversi anni. Un'altra piccolissima cosa, perché sono tante piccole cose che alla fine messe insieme fanno le grandi cose. Anche questa è una cosa, farsi la doccia uscendo dal mare è qualcosa di gradevole, farla anche gratuitamente lo è di più. Solo una raccomandazione con i cittadini, non sfasciatela, tenetela bene perché serve a tutti noi, altrimenti ci costringete a spendere soldi in direzioni che abbiamo già risolto invece di fare altre cose importanti. Quindi un appello in questa direzione, non rompete le cose pubbliche perché valgono molto di più delle nostre, perché non servono solo a noi ma servono a tutti. Sì, un altro piccolo tassellino nella direzione del fare, di risolvere le questioni che ci attanagliano. Torna stasera come ogni venerdì l'appuntamento con Agorà, il rotocalco settimanale di Canale 10 ideato e condotto da Franco Gallo accenderà i suoi riflettori su un settore ed una risorsa di fondamentale importanza come la portualità e tutto quello che ruota attorno all'economia marinara. Il recentissimo accordo firmato a Palermo potrebbe diventare la chiave di volta per avviare una rinascita di gel attraverso il mare e tutte le sue straordinarie potenzialità. Tutto questo con ospiti studio sarà al centro del dibattito di Agorà stasera alle 21 sulla nostra emittente. Proseguono gli appuntamenti in occasione della festa della Madonna delle Grazie a Gela, oggi alle 17, ingresso della banda musicale alle 17.30, a Vespri Solenni di Maria Santissima delle Grazie, alle 19, celebrazione eucaristica e alle 20.30 a fuochi d'artificio nella piazza del convento. domani alle 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00, celebrazioni eucaristiche alle 11.00, solenne celebrazione eucaristica preseduta da Fra Gaetano Laspeme, ministro provinciale ed ancora dopo la celebrazione fuochi d'artificio nel piazzale antistante il convento, alle 12.00, celebrazione eucaristica preseduta dal vicario Foranio Michele Mattina, alle 16.00, processione di Maria Santissima delle Grazie al rientro della Madonna a fuochi d'artificio a mare ad ovest del pontile sbarcatoio. Questo è il terzo incendio che si verifica di una certa entità a Caltanissetta, come vi siete organizzati come piano per profondeggiare questa cauda a estate che si prospetta? Noi continuiamo ad operare con le risorse umane, quindi con gli uomini e con i mezzi che abbiamo a disposizione durante tutto l'arco dell'anno. Abbiamo sì, per alcuni aspetti, una struttura che ci consente in tempi piuttosto rapidi di aumentare il personale o richiamando il libero dal servizio o raddoppiando i turni in ragione delle circostanze e delle evenienze, così come è possibile pure che vengano in ausilio nostro anche squadre da altri comandi più vicini, faccio l'esempio da Grigento o da Enna in particolare o dal Ragusano, nella zona sud della provincia, nel Gelese, però voglio dire che quando fa caldo qui fa caldo anche nelle zone a noi più prossime e quindi i problemi sono in comune. Li dobbiamo gestire, li dobbiamo gestire assieme alla componente aerea che oggi ovviamente ci consente di agire oltre che con sinergia ma con maggiore efficacia per questo tipo di incendi. Le problematiche più grosse, se devo sottolineare questo aspetto, sono quelle che riguardano le periferie della città, sono quelle che riguardano le zone fortemente antropizzate dove magari abbiamo la possibilità di vedere abitazioni e villini di pregio e però continuiamo a vedere lotti di terreno ancora pieni di erbacce, strade di penetrazione piccole, strette, con i bordi pieni di erba. Non bisogna curare solo l'orticello proprio, però cercare di trovare modo e maniera di difendersi anche dagli incendi, in questo caso con le opere precauzionali che io ritengo non solo debbano curare gli enti locali perché una loro competenza, ma anche i cittadini anche con un atteggiamento diverso rispetto a questo tipo di problematiche e con una sensibilità diversa. 40 anni di Aias, appuntamento previsto per martedì 5 luglio prossimo alle 10 nei locali di Contrada Manfria a Gela. Interverranno Salvatore Nicitra, presidente nazionale Aias, Anna Maria Longo, presidente della sezione gelese e Luigi Virone, direttore sanitario. È prevista la presenza anche di Francesco Lottrovato, presidente d'onore Aias e del Vescovo della Diocesi di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana, modererà i lavori la giornalista Rosa Battaglia. Ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale, una bella notizia che ci inorgoglisce ieri verso l'Università degli Studi di Catania, nei locali di Villa Cerami, Roberta Gallo, figlia del collega Franco Gallo e dell'Avvocato Marina Laboria, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza. A Roberta e alla famiglia Gallo e Laboria, le congratulazioni di tutto lo staff del Tg10 e dell'editore della nostra emittente. Ci fermiamo lì in allargia per la pubblicità. Rieccoci in seconda parte del telegiornale, in pagamento agli sportelli della banca Unicredit di Gela, il contributo per il canone di locazione relativo al 2015. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Bela. Le somme integrative attinte dal Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in allocazione sono rapportate all'importo del contratto di affitto regolarmente registrato e alla sua incidenza rispetto al reddito del nucleo familiare. E adesso parliamo di Gela Calcio, il punto in questo servizio. È cominciata ad oggi la nuova stagione sportiva per il Gela Calcio, un altro anno da vivere assieme ai colori bianco-azzurri, un altro anno che si preannuncia ricco di soddisfazioni e irto di difficoltà, così come accade da sempre. E così come sempre accaduto il Gela ha ottenuto risultati straordinari, riuscendo a superare ostacoli a prima vista insormontabili. La società, capitanata dal presidente Angelo Tuccio dopo la mara rinuncia alla Lega Pro, è ripartita dai campi polverosi e l'ascesa è stata semplicemente straordinaria. Promozioni su promozioni. Adesso c'è il torneo di Serie D, finalmente si oltrepassa lo stretto di Messina. Si giocherà su campi di città importanti e contro squadre di un certo blasone. La D non è l'eccellenza, è giusto chiarirlo, così come l'eccellenza non era la promozione. E nel torneo di eccellenza sappiamo tutti com'è finita. Un Gela che era partito malissimo, che poi ha corretto il tiro e alla fine ha conquistato il salto di categoria. E lo ha fatto attraverso l'impegno di un serio condottiero che corrisponde al nome di Toto Bruculeri, riconfermato giustamente anche per la prossima stagione. E lo ha fatto grazie alla tenacia, ai muscoli e alla testa di giocatori che hanno sudato la maglia. Ci riferiamo al centrocampista e capitano Bonaffini, al centrale di difesa Campanaro e agli attaccanti Alma, Mincica e Nassi. Tutti riconfermati. Bisogna fare un plauso anche a chi non rientra più nei quadri tecnici. Anche loro hanno dato il loro contributo. Allo zoccolo duro il club ha aggiunto un elemento di indubbie e spiccate qualità. Lui è l'attaccante Santino Biondo, prelevato dalla Rocca di Caprileone in eccellenza girone B. Il suo obiettivo di visita è di tutto rispetto. 22 gol nell'ultima stagione. Un centravanti che riesce a trasformare in oro tutto quello che tocca. A giorni sono previsti altri botti di mercato. Ricordiamo che quest'anno in Serie D è obbligatorio avere quattro under in campo. Un giocatore nato nel 1996, due nel 1997 e uno nel 1998. E sul Gela Calcio abbiamo raccolto la testimonianza del tecnico Totò Brucculeri. Sentiamo. Io penso che i tifosi di Gela ormai sanno benissimo che sono un allenatore molto ambizioso, come lo è la piazza. Per cui cercherò di dare al massimo. Io lo sai, nel mio lavoro sono uno che do tutto e che di conseguenza penso anche quest'anno di raddoppiare le energie. Nessun volo Pindarico ma la giusta attenzione per regalare ad un'intera città le soddisfazioni che merita. Il concetto manifestato dal tecnico Dal Gela, Totò Brucculeri, non fa una grinza. L'allenatore conosce l'ambiente che lo circonda e soprattutto conosce il campionato di Serie D, un torneo difficile e appassionante. Il club Biancazzurro sta lavorando alla ricerca di altri giocatori da inserire nel gruppo. Siamo già al lavoro per quanto concerne il discorso delle conferme dell'anno scorso di confermare il zoccolo d'oro. Poi andiamo anche su un progetto per quanto concerne il discorso dei giovani perché quest'anno rispetto all'anno scorso c'è un under in più. Dobbiamo soprattutto lavorare su questa lunghezza d'onda. Non è facile anche perché in questo momento non è facile reperire i ragazzi. Stiamo cercando in tutti i modi di monitorare sia nei professionisti che nei delettanti che cercando di prendere meglio il prodotto. La società sta lavorando abbastanza bene, anche penso che il direttore sportivo sta facendo un grande lavoro in sintonia con lo staff tecnico. Stiamo cercando in tutti i modi di poter allestire una buona squadra per regalare grandi soddisfazioni ai tifosi. In questi giorni la società sta sondando alcuni luoghi siciliani per il ritiro precampionato. Stiamo lavorando anche su questo, penso che io già prevedo che possiamo fare un paio di settimane fuori, non lo so, forse tra Catania e Caltagirone stiamo vedendo delle strutture che ci possono ospitare cercando di fare un grande lavoro. Il giorno 14 penso che inizieremo con i test dei vari giocatori, con la consapevolezza di affrontare un campionato difficile che penso che il campionato di Serie D sia un campionato di C2, perché ormai tolti i gironi di C2 è chiaro che è un campionato impolpato, io lo ritengo già un campionato ad alto livello dove bisogna avere la possibilità di poter lavorare con gli uomini giusti. Domenica tra luglio prossimo i soci dell'associazione Trinacria, sezione Ducezio, in occasione della giornata dei beni culturali, saranno in visita al Museo archeologico di Gela. Subito dopo seguirà una visita alle mura Timoleontè di Caposoprano. È prevista anche la presentazione del programma 2016. Lo comunica il presidente dell'associazione Giuseppe Carnevale. Appuntamento con la rassegna Teatro Sotto le Stelle all'antidoto di Gela, oggi alle 21.30. È prevista la rappresentazione e turbulenze in galleria della compagnia teatrale Cesare Cannata. La rassegna, lo ricordiamo, si concluderà a settembre. L'ingresso è di 5 euro a coppia e è prevista nel cartellone anche l'esibizione di Giobbe Covatta. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci eseguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.